Buonasera, cosa ne pensate di HOMOS? Oramai sono mesi che non si vede, che futuro può avere ancora in WWE ora che ha perso anche MVP? Ma stando allora HOMOS, scusa, stando a quello che dice Fabrizio Romano, presto dovrebbe arrivare al Napoli una trentina di milioni di euro no scherzo allora secondo me verrà rilasciato molto presto perché diciamo purtroppo è molto a causa anche di un fisico che è una grossa limitazione perché ragazzi parliamo di un uomo molto 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 grosso che chiaramente lo rende difficile da scrivere che gli impedisce di muoversi in una maniera molto fluida ti limita le mosse eccetera l'unico poche motivo per cui lo si deve era anche che poteva avere un ascendente sul mercato africano che comunque sono molto, soprattutto nigeria perché lui è nigeriano se non erro che è un paese che comunque sta iniziando ad avere degli sviluppi importanti in questo momento nel roster totale c'è Obafemi anche lui nigeriano anche lui enorme molto più atletico fisico e molto molto possente e nonostante la relativa inesperienza dimostra di essere molto capace sul ring cioè impressiona se non l'avete visto ragazzi vi consiglio di andervi a vedere degli incontri come quello contro Wesley è quello è il triple threat che fece un po' di tempo fa in un evento di NXT mi pare contro D-Jack e non mi ricordo chi altro cioè che fa volare la gente è una bestia ragazzi è enorme e piace molto anche dal pubblico di NXT che comunque è un pubblico che vuole un certo tipo di cose diciamo se tu riesci a impressionarli con le tue capacità con il tuo fisico eccetera secondo me tanta roba ecco quindi Obafemi per me può essere il vero futuro Omos ha già un doppione ormai quindi secondo me presto magari verrà rilasciato oppure usato solo in ruoli veramente molto marginali ecco a me dispiace per Omos alla fine è un'attrattiva attrazione cioè solo che c'è deve essere un'attrazione perché ha un omone di più di 2 metri 20 però come diceva anche prima Chris Sayan ha perso tanto nell'ultimo periodo cioè mi sembra che poi nel 2023 abbia perso avresti il media 39 abbia perso contro Seth Rollins poi non si è praticamente più visto e abbia fatto la rambole vasta di quest'anno il problema è che per lui è che c'è un altro come Obafemi come hai detto te giustamente Simon che copre la sua stessa zona di interesse ecco mettiamola così bel film ed è più atletico di lui ecco mettiamola così anche perché non credo che Omos non sia preparato e non sia in grado di stare in WB altrimenti non l'avrebbero preso ecco io parto da questo presupposto che chi prende gli atleti in WB non sia stupido nel 2024 magari 20-30 anni fa poteva esserlo però adesso credo credo di no potrebbero magari tenerlo lì in in ghiacciaia e poi quando Obafemi verrà su da NXT proporlo come alleato di Obafemi e quindi creare questa forza questa forza nigeriana nigeriana magari inghiacciano pure Ossiman capito no però sai magari c'è anche Apollo può essere una stable nuova è comunque una caratterizzazione Apollo faceva pure anche lui la nation of nigeration eh trovare una adesso noi la stiamo mettendo un po' sul ridere però potrebbe essere il modo giusto per tirare fuori altri due eh altri due atleti Obafemi è già abbastanza affermato da NXT tirare fuori altri due che in questo momento ci sono poche niente e creare una stable alla fine hanno fatto la stable delle damage control che sono tutte giapponesi a parte da Kotakai perché gli serve una una che parla e però sì avrebbero una una cosa in comune che è quella del eh dell'essere tutti e tre nigeriani e potrebbero formare una una nuova stable tutti e tre perché no potrebbe essere un un modo per per farli per per rilanciare Omos in qualche modo e visto che tutti e tre non mi sembrano bravissimi al microfono perché anche Obafemi comunque non mi sembra un granché al microfono per quel poco che vedo da NXT magari ritirare fuori un veterano che possa fargli da manager non sarebbe una brutta idea visto che MVP sembra sembra fuori dalla WB grazie a tutti